Vuoi mi salutare per bene allora? Senti, dove siamo qua? Non lo so Ah, ma sei la moglie di Luca tu allora Sì, sì Buongiorno, lui chi è? Ah, era a casa di Antonio Qua vediamo gente hippie che arriva negli anni sessanta Gerico, più interessante, piacere Uh, Gerico Sunfire Bob Umani bianchi, umani neri Sun... Sunfire Umani gialli Ah, anche delle belle donne dai C'è anche qualcosa di positivo Sarei con me belle donne, mi sento lusingato Guido Questo bel seno Ma che è il pianeta verde qua che si fanno gli esercizi? Ciao Guarda, è qui il raduno Il mio qua amare Il raduno gay lesbo è questo? Olè Allora Qua stiamo in diretta online streaming Se noi organizziamo qua l'intervista di Veggie Channel La Gerico, lei mica se la prende, è vero? Sì Veggie Channel, hai arrabbiato con me il capo di Veggie Channel No, ho detto che lui viene, lui palpisce il bacio amore Perché lui è arrabbiato con me Domattina? Va bene domattina Adesso registriamo Eccolo, guarda Sì Hai visto? Totto Hai visto? Hai visto? Carino Hai visto? Piano, fai piano Tanto 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 Prima stava a parlare di francista Una nonna premorosa Non la guarda E' il caso, no? Poi si Pensa che... No, no Si sente guardata Poi non fa più Ma Anche da un incinta Questa cosa non sta in tutto stato Si Si Hai mai sentito No Si Ma Si 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 Ma Si Grazie